E voglio dire qualcosa anche a chi è qui dentro, a chi da qui a poco deciderà se svendersi per una poltrona o se alzare la testa. Voi siete parlamentari della Repubblica e oggi i vostri segretari di partito vi stanno umiliando e non dovreste permetterglielo, soprattutto se quelle persone non siedono qui dentro, a differenza vostra. Voi potrete decidere. È una legge che non garantisce nulla, né al Paese né tantomeno ad ognuno di voi. E voi veramente volete essere ricordati nella storia per il Rosatellum. Perché guardate che sarà così. Non ci sarà il tempo per farlo dimenticare e l'avrete fatta troppo grossa per far ricordare altro di voi e del vostro operato. Sarete ricordati nella storia per il Rosatellum. Anche lei, Rosato, lei è sicuro che vuole essere ricordato per questa legge.